ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come i fan di uomini e donne sono andati contro carlo e nicole santinelli dopo la notizia subito confermata della loro rottura dopo circa un mese dalla scelta eppure solo qualche giorno fa la coppia uscita dallo studio del popolare dating show di maria de filippi aveva proclamato il proprio amore nello studio di verissimo ospiti di silvia toffanin nel corso dell'intervista l'ex corteggiatore ha avuto modo di raccontare le emozioni del post scelta quando i due non si sono separati passando la serata in una suite di un hotel alle sue parole hanno fatto ecco quelle di nicole santinelli che entusiasta ha fatto sapere che non vedeva l'ora di presentargli le persone più importanti della sua vita un discorso fatto dallo stesso carlo uomini e donne chioggia di critiche contro carlo e nicole santinelli andrea foriglio il commento velenoso ma la scelta dell'ex tronista romana sin da subito non ha convito il pubblico di uomini e donne infatti in tanti già prima della sua uscita dalla trasmissione in coppia credevano che avrebbe scelto andrea foriglio il quale a freddo ha commentato la sua esperienza ed il fatto che non sia uscito con nicole avevamo due caratteri molto simili questo ci ha penalizzato durante il programma ci scontravamo molto il nostro orgoglio non ha fatto funzionare tutto la mia mancanza di sensibilità quella che lei voleva e dolcezza mi ha penalizzato io ero sicuro di essere la scelta lo sentivo quello che c'era tra di noi forse l'ho presa anche troppo superficialmente parlando del suo rivale andrea ha detto dall'altra parte con carlo vedevo gesti troppo forzati mentre da parte nostra era tutto così naturale non si sono fatti attendere i commenti dei fan dopo aver saputo che carlo e nicole santinelli si sono lasciati in tanti hanno accusato l'ex tronista di essere finta e di aver fatto una scelta di ripiego perché con andrea avrebbe rischiato di no n avere il controllo della situazione sono anche piovute critiche contro carlo reo di aver spiattellato subito sui social la reazione dopo la rottura invece di prendersi del tempo per sé per assimilare il tutto grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video